Il mercato delle auto ha fatto in modo di mostrarci ormai da parecchio tempo come il concetto della globalità, complice anche ormai l'assenza di confini, in tutti i sensi, si è diventato portante. Il mercato delle auto ha fatto in modo di mostrarci ormai auto prodotte a latitudini profondamente lontane da quelli dei mercati in cui, invece poi, vengono proposte e diventano di grido e predominanti sul piano della vendita. Aziende dislocate auto prodotte a latitudini profondamente, sedi finanziarie e centrali produttive separate tra loro da oceani e componenti di auto generate in continenti diversi. Ormai siamo abituati a tutto e, soprattutto, a auto che so' sedi finanziarie e centrali prodotte un mercato così globale che possiamo anche iniziare a dimenticarci, forse, concetti come l'identità dei brand, i loro luoghi d'origine e soprattutto la stessa originalità delle auto. Un mercato così globale che possiamo anche iniziare. Eppure, il mercato stesso si evolve verso un sentiero che sembra essere pericoloso per i diritti di identità di auto che hanno fatto la storia, di brand che si sono imposti nelle decadi passate. Eppure, il mercato stesso si evolve verso. Sono ormai tanti i casi di autocloni, o diciamo così, un po' troppo simili ad altre. Macchine che assomigliano così tanto ad altre già esistenti da aver fatto, alcune volte, gridare rabbiosamente alla copia e avviare anche procedimenti giuriti. Un po' tutti sono abituati a guardare ad est, da questo punto di vista, e le citazioni delle cosiddette auto cinesi cloni di altre vetture sono diventate quasi una iconica metafora per analità. A volte, esagerando un po'. Altre volte, invece, è come se ci si trovasse davvero di fronte al nocciolo. Ne sarebbero convinti, ad esempio, molti ammiratori delle Porsche, tanto per fare un nome di un brand universal. Come mai? Arriva dalla Cina, nel 2024, un modello di auto che sembra infatti assomigliare molto da vicino alla Porsche Panamera, una delle auto più belle che si possano vedere. Come mai? Con una piccola di piccola si fa per dire, l'auto, infatti, costa appena 28.000 euro. Eppure, a guardarla da vicino, appare quasi come una goccia d'acqua, come si suol dire, del un clone della Porsche Panamera. Chiunque è libero di farsi una propria idea al riguardo. Certo è che con un prezzo sotto le 30.000 euro, un'auto simile al gioiellino della Porsche rischia di scopercare gusti, mercati e possibili scelte da parte dei compratori.